È una faccia politica, è un professionista, è una persona per bene. Mi pare che siano tre caratteristiche fondamentali per fare politica. Io ho l'impressione che la città di Cosenza avrà voglia di avere lui come candidato sindaco oggi e come sindaco domani e quindi un bocca al lupo a tutti quanti. Per dare un'alternativa a questa città e a questa provincia è necessaria compattezza. Bisognava fare un passo in più, non bastava un apparentamento, serviva un'alleanza organica. Mario è un uomo del fare, è un professionista di qualità. Abbiamo investito su una classe dirigente, su un uomo e su un gruppo dirigente di una serie di partiti che hanno a cuore la sorte della città di Cosenza. Il nostro è un discorso di prospettiva e vogliamo vincere perché crediamo fortemente di avere le carte in regola per amministrare Cosenza nei prossimi anni. Credo che gli elettori avranno un sindaco che saprà mettere le mani su questa città, che è già bella di suo, ha bisogno di qualche aggiustamento e un sindaco con queste caratteristiche lo può fare. Non è una cosa che capita tutti i giorni, di avere un grande architetto, un urbanista, cioè un uomo che per la sua professione è abituato a pensare in modo globale, ad averlo in una città anche piccola come candidato sindaco. Credo che sia una grande occasione, una scommessa che i cittadini di Cosenza devono acchiappare al volo perché dietro alla visione di una grande città c'è il miglioramento della vita di tutti quanti. Io credo che nel caso di Occhiuto conti anche la sua modernità, la sua voglia di rinnovare che ha mostrato esattamente nel suo lavoro, nella sua attività professionale, quindi siamo molto speranzosi, siamo anche molto speranzosi che la città di Cosenza voglia percorrere la strada di rinnovamento e questo rinnovamento è il mario Occhiuto. Un rinnovamento nel nome di una professionalità riconosciuta da tutti e Occhiuto obbedisce proprio a questa logica. Noi abbiamo il dovere di riaccendere la speranza, di dire ai giovani e ai non giovani, a qualunque partito appartengano, che la scelta di Occhiuto è una scelta di novità. La scelta di un candidato serio, competente, capace come Mario Occhiuto è alla base di un elemento che rafforza una coalizione, la rende omogenea e le consente di poter lavorare bene su progetti seri di rilancio e di sviluppo di questo territorio. Ha dimostrato nel corso della sua vita di avere delle grandi idee, un grande professionista, un uomo concreto e penso che a Cosenza serva molto una persona come lui che dia un'idea di sviluppo serio di questa città. Ho fatto un programma fatto di tre punti e in quei tre punti lui attuerà, io ne sono sicuro.